Ragazzi siamo a meno 9 trofei dalla Lega Cristallo guardate qua questo qui municipio fuori ci dà 11 trofei se vinciamo quindi attacchiamolo subito mettiamo tutti i nostri arcieri qui perché noi vogliamo vincere in pompa magna e così concludiamo la nostra serie Scusate se non sono riuscito ad accendere la registrazione ma ho avuto dei piccoli impedimenti comunque guardate Molto bene ragazzi molto molto bene Bene ora possiamo tornare a casa ragazzi voglio almeno 2000 mi piace per questo finale epico di serie Torniamo a casa 2000 trofei 2000 trofei Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dale e oggi siamo qui in un nuovo episodio di questa grande serie dove abbiamo scalato con il municipio al 3 E questo ragazzi è l'ultimo episodio perché sì come avete visto dal pezzo prima della intro siamo arrivati in Lega Cristallo siamo a 2002 trofei veramente ragazzi è stata una cosa epica Lega Cristallo 3 veramente c'è tanta roba io sinceramente non ero molto convinto quando ho iniziato la serie però poi ho detto sì dai si può fare E diciamo che oggi mi sono spaccato su attacchi su attacchi su attacchi il municipio stavo sclerando però alla fine ci siamo riusciti Guardate qua adesso andiamo anche a richiedere le 250 gemme dell'Alea Cristallo 3 de 1 bam Ottimissimo ragazzi e adesso sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Io direi che mi compro uno scudo di una settimana così stiamo tranquilli quindi dai compriamolo anche se costa 250 gemme noi ne abbiamo 800 Quindi abbiamo esattamente 7 giorni per riposarci dove possiamo vantarci di essere arrivati in Lega Cristallo con questo grande villaggio Guardiamo un po' i replay che ho fatto guardate ho fatto un fracco di attacchi guardate tutti più dai 4 ai 10 trofei veramente è stato uno sbattimento unico E ragazzi adesso io voglio proporvi una sfida ovviamente questo episodio non sarà un gran che perché è solo per informarvi che sì ce l'abbiamo fatta Comunque la sfida è 2000 mi piace 2000 mi piace se arriviamo a 2000 mi piace io tra 7 giorni magari provo a scalare un pochino e magari potrei puntare tipo alla Lega Master Intanto il clan che manda congratulazioni grazie Alfa E comunque ragazzi diciamo che non è stato facilissimo io mi aspettavo una cosa abbastanza facile perché dico Sì dai attacchiamo solo i municipi fuori però non avevo calcolato tipo che alcuni municipi fuori hanno tipo le tesla le bombe ti devastano tutto e fai mega fail E questi sono stati i periodi più brutti della mia grande scalata però appunto come ben sapete siamo arrivati quindi questo è quello che conta non si piange sul latte versato Come al solito diamo un'occhiata alle difese guardate qua meno 43 meno 13 meno 22 meno 30 un casino in difesa ragazzi ovviamente non ho fatto niente La tattica di cambiare il villaggio purtroppo non ha funzionato però comunque ragazzi alla fine diciamo il vantaggio di scalare col municipio al 3 E' che appunto come ho già detto negli altri video skipare e cercare un villaggio costa pochissimo quindi problemi di risorse proprio 0 E' solo proprio una cosa psicologica quindi bisogna solo avere la pazienza e il tempo per cercare un avversario Quindi diciamo se avessi tipo le giornate intere per nerderare su clash of clans probabilmente riuscirei ad arrivare anche in Lega Campione con un municipio al 3 Però bisogna essere proprio dei nerd pazzeschi e io sono abbastanza nerd però non sono nerd fino a questo punto E quindi ragazzi per questa serie era tutto se arriviamo a 2000 mi piace mi raccomando magari proverò a scalare ancora un pochino Poi vi ricordo vi preannuncio che scalerò anche col mio profilo quello figo con gli Archie X al 4, l'Inferno al 3 e chi più ne ha più ne metta Quindi magari proveremo ad arrivare in Lega Campione lì non vi spoilerò niente Io come al solito vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando veramente sta diventando una cosa epica questo canale Io ci sto mettendo il cuore voi mi state regalando grandi emozioni quindi grazie mille di tutto Vi ricordo come al solito di passare per la pagina Facebook link in descrizione anche per Twitter, Instagram e tutti i social network E niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video Sono l'Ilea Cristallo, sono l'Ilea Cristallo, sì